Benvenuti a Mercato Flash, la rubrica settimanale di Siderweb dedicata all'andamento dell'acciaio sul mercato italiano. Nel segmento dei prodotti piani in acciaio al carbonio rimane la tensione sui prezzi con i produttori europei che stanno tentando di alzare il prezzo fino a 700-720 euro la tonnellata a base partenza per i cois a caldo nel mercato nord-europeo, mentre i produttori italiani sono in scia e puntano quota 700. Per quanto concerne il lamierino magnetico, il materiale a grani orientati gode di una domanda comparativamente migliore rispetto a quello a grani non orientati, mentre dal punto di vista dei prezzi entrambi sono in calo. Il mercato italiano degli acciai speciali lunghi è contraddistinto da volumi limitati di consumo, mentre la domanda apparente sta dando alcuni segnali di recupero grazie alla spinta degli aumenti annunciati dei produttori, che stanno facendo fronte ad un incremento dei costi produttivi. Il tondo per cemento armato è testimone di un balzo avanti dei prezzi. I produttori infatti puntano a quota 400 euro a tonnellata a base partenza nei prossimi giorni ed arrivare a 420 euro a tonnellata a base partenza prima della chiusura natalizia. Nel settore del rottame di acciaio al carbonio i prezzi rimangono contraddistinti da stabilità, con le quotazioni di questa settimana che si sono confermate sui livelli della settimana precedente e con gli operatori che si aspettano che questo livello di prezzi rimarrà praticamente inalterato fino alla chiusura natalizia. Con Mercato Flash l'appuntamento, come sempre, è lunedì prossimo.